Ciao, nella Voyager Cup di oggi parleremo dell'andamento del mercato corcellistico, parleremo poi dell'andamento purtroppo del Covid al di fuori dei paesi della comunità europea e poi daremo uno sguardo a cosa poter fare questo fine settimana e i prossimi fine settimana. Ok? Tra pochissimo nella Voyager Cup. Eccoci qua. Allora, parliamo di crociere. Secondo le anticipazioni dell'Italian Cruise Watch, dove si incontrano tutte le compagnie di navigazione per fare il punto sulla situazione futura dei prossimi anni, le stime sul traffico corcellistico 2021 prevedono un incremento di passeggeri fino a oltre 2 milioni e 740 mila persone a bordo delle navi da crociere, con un incremento rispetto all'anno precedente del 325%. Beh, ma non è difficile pensare, visto che l'anno scorso c'era il Covid. Si intendono in questo caso dati di imbarchi, sbarchi e anche di transiti. Ma è, se ci pensate, un numero elevatissimo, ma ancora inferiore rispetto a quello del 2019. Nel 2019 erano oltre 12 milioni di passeggeri che appunto navigavano a bordo di tutte le navi da crociere. Ma navigare, quindi, ma crociere non è soltanto la vacanza della settimana di relax, senza pensare a nulla. Dovete pensare che il reparto corcellistico mette in moto una filiera veramente enorme per quanto sono gli investimenti di questo settore. E quindi la pandemia ha dato l'opportunità, in questo caso, di aumentare gli investimenti per i prossimi anni, di mettersi a tavolino e dire ok, facciamo degli investimenti per il territorio nazionale italiano per vari porti, come per esempio per il porto di Messina, di Palermo, di Trapani, di Porto Empedocle. Cosa faranno? Ci saranno circa 821 milioni di euro utilizzati per le ristrutturazioni, per i dragaggi, per la costruzione di nuovi imbarchi, di nuovi terminal e anche per il tema ambientale. Come sapete, Porto Empedocle e anche Venezia avranno un investimento in tema ambientale enorme. Infatti, come sapete, da Venezia, per esempio, il porto non si partirà più dalla città, ma si partirà da Marghera, con un notevole aumento della sicurezza per la navigazione in canale grande, ma anche per una ricostruzione di un porto e anche qui con un investimento elevatissimo. Per quanto riguarda le regioni, quali sono le regioni che generano più flusso di viaggiatori dove si imbarcano? Naturalmente la prima è la Liguria, segue poi il Lazio, la Sicilia, poi la Puglia, il Friuli, la Campania e la Sardegna. Per i singoli porti, il porto numero uno europeo è Civitavecchia, scusate, italiano è Civitavecchia. Segue poi Genova, Palermo, Bari, Napoli e Savona. Trieste chiude la classifica con Taranto e Monfalcone. Venezia però invece è fuori, perché come sapete, sono ormai le crociere da Venezia, non partono più. E in attesa dell'apertura del nuovo porto, si viene trasferiti appunto a Triesto, a Monfalcone, da Venezia, dal porto di Venezia, con i trasferimenti. Parliamo di Covid. Secondo la mappa dell'ACDC, che è il Centro Europeo per il Controllo e la Prevenzione delle Malattie Infettive, la situazione in Europa sta nettamente migliorando, sia per il Nord Europa che per noi, per la Francia e per la Spagna. Rimangono delle situazioni da tenere sotto controllo per i paesi quali la Romania e anche la Bulgaria, dove le vaccinazioni e le campagne vaccinali non sono proprio andate a regime. Mentre per i paesi extra-UE ci si segnala un'attenzione per il Regno Unito e soprattutto un'attenzione per la Russia e per l'Ucraina, che stanno subendo un aumento. Ma anche qui la campagna delle vaccinazioni non è andata a buon fine per quello. E infine non ci resta che parlare degli appuntamenti di questo fine settimana o delle opportunità per passare un weekend all'aria aperta o andare a vedere qualche museo. Vi volevo segnalare che fino al 31 di dicembre I Love Lego a Padova è un'esposizione unica presso il Centro Culturale Altinate a San Gaetano. Ci sono dei bellissimi diorama di mattoncini che meritano la visita. Ma non solo. Pensate, milioni di mattoncini con sei fantastici diorami veramente incredibili e tutto allietato dalle simpaticissime vignette di Legolize, che è una pagina umoristica che trovate su Instagram anche, che è dedicata a Lego. Ma provate a cercarla perché è veramente da morire da ridere. Quindi se volete informazioni su I Love Lego a Padova potete farlo cercando Artesia oppure I Love Lego su internet e trovate tutte le informazioni per accedere a questa mostra che è aperta fino al 31 dicembre. Poi ancora, fino invece al primo di novembre, se siete dalle parti di Roma, fate un salto a Cinecittà World perché il parco si traveste appunto dedicandosi ad Halloween. Quindi avete l'opportunità di visitare un parco destreggiandovi fra zombie, streghe, maghi, insomma vampiri, tutto quello che è dedicato alla festa del 31 di ottobre. Poi presso invece il, vi ricordo che è il fine settimana prossimo, quindi si apre Luca Comics and Games, che dal 29 ottobre al primo dicembre sarà dedicata, è un appuntamento da non perdere per tutti gli appassionati di games, di fumetti, di cosplay, di collezionismo, di modellismo, insomma tutto quello che riguarda la cultura pop è a Luca Comics and Games. Quindi da non perdere l'appuntamento dal 29 di ottobre al primo dicembre a Luca. Se non avete mai fatto un salto fatelo perché merita, è un altro pianeta, vi immergete in un altro pianeta. Infine vi ricordo che a Brescia, presso il Borgo Wurer, al numero 45, presso il Centro Studi Oriente e Buddismo, lunedì prossimo a 25 ottobre alle ore 18 c'è un incontro sul buttismo tibetano con il venerabile Geshe Tenkyong, spero di averlo detto giusto, però è un appuntamento per chi ama appunto un discorso prettamente spirituale. Spero che questa Voyager Cup vi sia piaciuta, quella del venerdì è un po' più carica, e se vi è piaciuta mettete il like e condividete. Io vi do appuntamento a lunedì per la Voyager Cup e vi ricordo che le offerte per Capodanno, per le partenze dei ponti, le trovate su Voyager125.it, mentre le notizie potete sempre consultarle su VoyagerandTraveler.com. Siamo su Twitter, su Instagram, su YouTube, appunto qui, su Facebook e anche su Google. Mi raccomando, seguite le Voyager Cup. Ciao e alla prossima!